Ho anche aggiunto che non mi convince la spiegazione che ha dato il segretario e il premier in questo caso nella relazione sul referendum costituzionale. Io credo che sia un errore trasformare quell'appuntamento dell'autunno in un plebiscito. Penso che quando si guida un grande paese come il nostro è compito di chi ha questa responsabilità tenere unito il paese, unire il paese e soprattutto fare questo sforzo quando in discussione entrano le regole della rappresentanza e della democrazia perché questo rende più autorevole non solo il ruolo del governo, del capo del governo ma anche più forti e più soli delle istituzioni che si vanno a rinnovare. Anche su questo mi sarei atteso e avrei sinceramente apprezzato una replica, un riscontro, non è avvenuto. Forse era tardi, non lo so, forse è venerdì sera. Grazie a tutti.